È arrivato anche per i centri sociali e i circoli culturali e ricreativi dell'Emilia Romagna il protocollo regionale sulle misure da adottare in vista della loro riapertura, possibile dall'unidì prossimo 25 maggio, svolgimento delle attività possibilmente all'aperto, riorganizzazione degli spazi dei locali per assicurare il distanziamento sociale, obbligo per dipendenti e volontari di indossare le mascherine, indicazioni da seguire per la pulizia e la disinfezione degli spazi. Questi alcuni dei punti principali. Tra gli elementi di maggiore incisività, fissati nel documento per lo svolgimento di attività ludico-recreative, la possibilità di organizzarle in forma individuale e a gruppi, ma solo dove sia possibile, garantire la distanza minima di un metro e la puntuale sanificazione dei materiali. Sono quindi esclusi, ad esempio, il gioco delle carte, i giochi da tavolo, il biliardino, calcio balilla e giochi di ruolo, una disposizione che potrà però essere rivista sulla base dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e del quadro normativo regionale e nazionale. Stabilito anche l'obbligo di indossare la mascherina per il gioco delle voce e biliardo, mentre restano vietate tutte le attività di ballo, come il liscio e le danze popolari, per cui non è possibile escludere il contatto fisico e assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri. Grazie. 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 Grazie.